Tutti insieme per vincere la partita del futuro. Sarà questo lo slogan che guiderà domani l'Assemblea pubblica al Cinema Pacifico di Sulmona alle ore 17, promossa dal Neo Movimento in Difesa del Centro Abruzzo, che chiamerà a raccolta i rappresentanti e le istituzioni del Centro Abruzzo. Ieri, nella trasmissione di un trivù che letta dal sindaco, il primo cittadino di Sulmona, Peppino Ranalli, ha comunicato la sua adesione. La Regione Abruzzo, dove aver deglassato la città di Sulmona da polo di attrazione ad aria intermedia, ha anche deliberato l'esclusione di tutti gli altri comuni del Centro Abruzzo dal progetto delle macro-arie interne. Entrambi i provvedimenti, secondo i promotori del Movimento Aldoronci, Fabio Maiorano e Giovanni Ruscitti, sono stati adottati in modo del tutto ingiusto e arbitrario, visto che la città di Sulmona e gli altri comuni del comprensorio hanno tutti i requisiti richiesti per non incorrere in tali penalizzazioni. A fronte di questa ulteriore, gravissima e intollerabile decisione assunta a danno di questo territorio e che lascia ipotizzare l'esistenza di un disegno del Governo regionale teso a devitalizzare tutti i più importanti servizi e strutture presenti a Sulmona e nel Centro Abruzzo, è necessario, secondo i promotori del Movimento, che le comunità interessate reagiscano con forza e determinazione perché la Regione torni sulle sue decisioni e si apra a un sereno e costruttivo confronto con il Consiglio regionale e con le istituzioni del territorio. Tutto questo, infatti, secondo il Movimento, comporterà per il territorio perigno e dell'Alto Sangro un irreversibile impoverimento dei servizi essenziali nei settori vitali della sanità, dell'istruzione e dei trasporti e una drastica riduzione dei finanziamenti nazionali europei destinati allo sviluppo delle zone interne.